Dalla lettera agli ebrei Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli dal momento che gli offerenti, purificati una volta per tutte, non avrebbero più alcuna coscienza dei peccati. Invece in quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati. È impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo entrando nel mondo, Cristo dice Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio, per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà, siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia, nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo giunsero la madre di Gesù e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era seduta una folla e gli dissero, Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano. Ma egli rispose loro, Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse, Ecco mia madre e i miei fratelli perché chi fa la volontà di Dio costui per me è fratello, sorella e madre. e i miei fratelli e le tue sorelle se non crezzi e non crezzi Che cosa fa la volontà di Dio